Ma ho appena finito di leggere il romanzo precedente e l'ultimo di questo straordinario scrittore francese che si chiama Mattia Senard, di cui Rizzoli ha pubblicato l'anno scorso un romanzo che si intitola Zona e la zona è il Mediterraneo ed è il racconto rivelatore di tutte le tragedie politiche che stanno nel retroscena della storia del mondo Mediterraneo degli ultimi decenni. Quindi è un romanzo, un romanzo straordinario che in Italia in cui pochi si sono accorti e ho appena letto il nuovo romanzo di Ennard che è uscito in Francia l'anno scorso per fortuna con grande successo che si intitola Dilleur des Rois des Elephants et des Batailles e racconta una cosa che pochi sanno di quando Michelangelo si ricavò a Istanbul chiamato dal sovrano ottomano di Istanbul perché costruisse un grande ponte sul corno d'oro. Bellissimo, ve lo consiglio. Verrà tradotto prossimamente. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso. La redazione di Brobook vi invita alla lettura della seconda mezzanotte. Grazie. Grazie a voi.